buon pomeriggio ancora per un altro dei webinar della semina oggi l'ospite un illustre docente di una delle più prestigiose università italiane che è l'università di bologna luigi alberto franzoni che ha un un cv da fare impressione è un altro di quelli come dire uno vale uno l'università della vita queste cose qui ma soprattutto più di tutto è stato mio collega di militare ieri trent'anni fa alla scuola militare alpina ed è stato tenente degli alpini che chiaramente vale vale più di tutte le altre cose messe insieme lascio subito volentieri la parola a te luigi è un vero piacere un onore per noi della semina verti fra noi e a te la parola grazie stefano è un grande onore per me partecipare a questa serie di seminari e anche avere l'occasione di scambiare due parole con le persone che conosco essere estremamente valide e competenti in altri settori molto lontani da quelli delle scienze sociali anche molto più stimolanti e difficili e io non so quale sia lo standard solito dei seminari però pensavo che di proporvi l'idea di una chiacchierata e eventualmente di una finale interlocutoria in cui io vi dico quello che penso io e poi voi dite quello che pensate voi o pensate diciamo in relazione ai temi che vi propongo allora se siete d'accordo io così inizierei a parlare e raccoglierei anche delle domande non appena c'è qualcosa di poco chiaro o se volete qualche approfondimento il tema che io intendevo affrontare estremamente ampio è quello della prevenzione del rischio è un tema diciamo sterminato che è stato studiato da sociologi politologi scienziati filosofi della scienza economisti sociologi antropologi tutti hanno scritto detto qualcosa in relazione al rischio no quindi dobbiamo renderci conto che io dopo offrirò una prospettiva molto molto limitata perché ti parlerò di quelle che possono essere conseguenze per la policy per la politica economica io sono di formazione un economista come ha detto stefano e quindi diciamo la mia prospettiva è quella tipica delle scienze sociali e di chi vede il rischio in un'ottica essenzialmente sui dati di prevenzione prevenzione le politiche per la prevenzione io in particolare mi occupo mi sono occupato di risarcimento danni per difetti da prodotti e quindi sono dei rischi ancora più modesti no rischi minimi che però negli stati uniti soprattutto hanno una grande importanza perché ci sono risarcimento milionari spesso associati anche dei difetti minuscoli no come ad esempio pensare a una tazza di caffè che fa scottare le mani e li partono i risarcimento quindi se riesco attivare share screen vi faccio vedere il copertina che è scelto stefano molto interessante qui trovate anche il mio indirizzo di posta elettronica nel caso voleste contattarmi o fare delle domande in relazione a temi di prevenzione del rischio di economia in generale ok se non ci se ci sono problemi di audio così fatemelo sapere in tempo e mi fa piacere pensare questo un audio scusate una così un seminario online e magari qualcuno di voi ha il piacere di seguirmi sdraiato su una zrietta al mare o in qualche posto o meno molto più simpatico non so delle case di città in cui ci troviamo di solito allora è il titolo è la prevenzione del rischio ragione o sentimento no perché questo è il dilemma a cui arriveremo a capire come si può pensare al rischio e se è qualcosa di estremamente o solamente razionale se c'è anche una natura emotiva che ci aiuta in qualche modo entrare maggiormente in comunicazione col rischio allora nella diciamo una visione super ristretta la mini quesito che vorrei affrontare con voi fu posto da questo economista che si chiama paul portney molti anni fa quasi 30 anni fa no è una persona diciamo che abbastanza lungimirante no economista ambientale che si occupava di temi ecologici e che aveva diciamo posto alla comunità scientifica questo questo quesito no e si chiamava regulation in happyville dice voi cosa fareste no diceva se vi trovasse in questa situazione se foste una un decisore importante non so il responsabile della della sicurezza della di questa città potesse essere un dirigente di un'agenzia sanitaria o comunque capo di un organo tecnico in grado di prendere decisioni sulla sicurezza e se doveste decidere come comportarvi quale tipo di investimento fare in relazione all'acquedotto pubblico il problema si pone perché ci sono diciamo in questa città è un esempio ipotetico no c'è stato un aumento nei casi di tumore e la gente assegna attribuisce questo aumento dei casi tumori alcune sostanze che si trovano nell'acqua quindi a caso verosimile no possibile e il problema è che i maggiori scienziati esperti di tumori e di malattie legate a questo tipo di patologia vi confermano e sono unanimi al cento per cento che non è l'acqua la causa dei tumori cioè quindi avete una situazione in cui siete scientificamente certo che l'acqua non è contaminata eppure la popolazione è convinta che l'acqua sia la causa dei tumori e non c'è nulla da fare nel senso che anche malgrado le spiegazioni gli interventi di tutti gli scienziati del mondo la popolazione rimane convinta che sia l'acqua la causa dei tumori e quindi chiede di fare un ingente investimento per la depurazione dell'acqua un impianto che rimuova tolga queste sostanze presunte cancerogeni e a questo punto il quesito di porni e che cosa fareste in questa situazione cioè assecondereste diciamo la popolazione la richiesta della popolazione sulla base di un pericolo immaginario oppure vi affidereste all'opinione degli scienziati di cui sapete che come dire che vi è andato un parere in buona fede e la risposta a questo quesito diciamo varia nel tempo non c'è una risposta univoca e la risposta diciamo ci sono tre almeno tre possibili risposte da qui diciamo negli ultimi trent'anni sono state date a questo tipo di problematica e viene illustrerò tutte e tre poi magari chiedo quella a voi quella che a voi è più confacente quella che trovate più convincente allora intanto bisogna mettere in chiaro che pur essendo un quesito così di scuola inventato c'è un gran liberità molto importante perché già da trent'anni diciamo gli psicologi hanno iniziato a studiare il problema della percezione del rischio e hanno appurato diciamo constatato con certezza che c'è un divario notevole fra quello che può essere definito come il rischio oggettivo per molte cause di mortalità e quella che invece la percezione delle persone che hanno una percezione falsata diversa a volte esagerata ea volte invece non sufficientemente adeguata adesso se vado avanti questa che dovreste vedere è un diagramma che è stato si vede io chiedo stefano presidente se si vede il diagramma che grazie grazie ogni tanto si viene il dubbio di 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 essere rimasti da sole con la connessione staccata allora questa è grazie ora questo è un diagramma molto famoso che è stato ricavato da alcuni psicologi sociali e anche un po adattato stato diciamo relativo alla percezione dei cittadini americani in cui sulla sull'arte della scisse trovate quelle che sono i numeri della mortalità per anno numero di persone morte per ogni anno negli stati uniti mentre sul lato delle ordine delle della y non trovate quello che sono i numeri congetturati percepiti dalle persone cioè quanto le persone ritengono sia il tasso di mortalità legato a questo tipo di 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 problema diciamo problematica e come vedete non c'è una perfetta allineamento no ci sono degli scarti in eccesso in difetto prendete ad esempio il botulino no qui in alto a sinistra il numero di morti per a causa il botulino negli stati uniti è sotto ai 10 questa è una scala esponenziale no quindi qui ci si allontana ci si passa da 100 10 100 1000 quindi molto dire una piccola distanza grafica può rappresentare una differenza numerica molto molto ampia quindi se il botulino ad esempio vedete che il numero di morti per anno è inferiore a 10 negli stati uniti ma la percezione per le persone a cui viene chiesto quanti sono le persone morte il botulino secondo te ogni anno si muove fra i 100 e 1000 può essere qualcosa come 500 600 quindi c'è uno scatto enorme tra la percezione del rischio il botulino percepito come un fattore di rischio sostanzioso notevole e quello che invece nella realtà il numero di morti per questa causa di mortalità che è molto basso a per inciso non so se avete un idea anche voi sul botulino anche in italia i morti per botulino sono si aggirano sui 5 all'anno quindi è un fattore di mortalità bassissimo che però diciamo nell'immaginario nella percezione collettiva ha una sua rilevanza dopodiché trovate in questo diagramma tanti altri fattori di mortalità alcune sono al di sopra della linea 45 gradi vuol dire che c'è una percezione esagerata altre come il diabete alcune forme di cancro anche tutti all cancer no forme di tumore tutti i tipi sono fortemente sottostimate già le persone ritengono che ce ne siano meno di quante ce ne sono in realtà uno mi dirà ma in realtà è difficile anche calcolare la vera causa di morte chiaramente prendiamo questi dati con le pinze no c'è sempre un leggera discrezione del patologo del medico nell'assegnare una certa causa di morte però come dire è appurato che ci sono fortissime divergenze fra la percezione di un fattore di mortalità e quella che invece è la sua reale presenza nella società no e questo ha causato chiaramente questa presenza la presenza di questa divergenza quella che diciamo all'origine del dilemma di porno no una volta che uno prende atto che c'è questa divergenza si deve chiedere ma il responsabile persone che fanno la politica economica chi prende le decisioni deve seguire la percezione o deve seguire il dato reale e quindi un dilemma estremamente difficile da risolvere estremamente difficile da risolvere vi do un'altra figura questa anche questa aiuta in realtà è stata redatta da un'esperta di alta grafica assieme a alcuni epidemiologi in cui lo scarto fra percezione e realtà è rappresentata con la dimensione delle sfere di queste sfere ad esempio il primo in viola qui a sinistra è la sfera in alto ci dà la misura della percezione del rischio avete molto grande nella percezione mentre la sfera il cerchietto sotto la linea orizzontale ci dà la misura del rischio reale cioè di quante persone muoiono mediamente per anno per incidenti aereo quindi vedete che lo scarto qui è molto grande pochissime muoiono realmente sull'incidente aereo ma la percezione invece è molto amplificata questo è stato fatto a parte che è stata fatta per centinaia se non migliaia di fattori di rischio in questo diagramma vedete alcuni fattori più studiati no c'è l'incidente aereo l'uso dei cellulari l'elettro smog che percepito come un problema notevole ma quanto pare il numero di morti reali molto basso l'attacco terroristico che qualcosa che fa molto paura e anche qui il numero di morti reali molto bassa la rapina violenta no ma l'influenza aviaria questo è più più speculativo direi cioè la probabilità che ci sia un crollo della borsa anche qui di molto difficile fare delle stime e qui sotto vedete la percentuale dei casi in cui c'è stato veramente un crollo di borsa significativo questo rischio il pericolo legato al bicchiere di vino quotidiano che viene percepito come abbastanza pericoloso stiamo parlando questi sono dati relativi ai paesi che fanno parte della organizzazione mondiale della l'agenzia del lavoro dell'ilo quindi pesi industrializzati essenzialmente anche questo è sovrastimato si pensa che sia più pericoloso di quello che i medici ci dicono essere poi si scende qui nella parte a destra invece qui c'è una sottostima ad esempio del colpo di calore il rischio percepito è bassissimo però ci dicono i medici gli epidemiologi che invece il rischio il colpo di calore è una causa è effettivamente è pericolosa a causa di mortalità poi si scende ancora c'è la guerra ovviamente con tutte le attività legate alla guerra sono oggettivamente pericolose per la percezione non è così lontana incidente nel traffico è percepito come poco pericoloso dalla popolazione invece è molto pericoloso è molto pericoloso poi ci sono i tumori che ovviamente vengono percepiti come mediamente pericolosi invece sono una causa di mortalità fra le più importanti assieme alla malattia del sistema circolatorio quindi quello che diciamo è appurato è che c'è un forte scarto fra la percezione del rischio e il rischio fra virgolette oggettivo così come viene rappresentato dagli scienziati dagli epidemiologi dei medici o anche dagli economisti e questo giustifica diciamo il dilemma di porne e a questo punto la domanda è se siamo in presenza di uno scarto così forte no che non chiaramente un dice basta aumentare la comunicazione scientifica far parlare di più gli scienziati eccetera ecco una volta come dire data per scontato che tutti questi tentativi di comunicazione sono stati esperiti e che comunque lo scarto rimane la domanda è quale decisione prendiamo diciamo investiamo dei soldi pubblici per questo depuratore che in qualche modo a seconda la paura percepita oppure ci affidiamo gli scienziati e quindi riteniamo che l'investimento sia diciamo uno spreco e non risolva veramente i problemi delle persone allora prima di arrivare alla risposta vi vi dico qualcosa di più sugli studi che influenzano la percezione ok perché negli ultimi 30 anni proprio perché è stato percepito così rilevante questo questo fattore ci sono stati forse una migliaia un migliaio almeno di studi forse di più e i fattori no che influenzano la percezione sono stati adesso vi faccio questo elenco se volete dico anche qualcosa di più sono questi sono i fattori principali sono i fattori principali allora perché dice quando è che c'è una percezione falsata o diciamo amplificata del rischio ora il primo fatto non sono in ordine di importanza sono un semplice elenco no una è la familiarità cioè il fatto che il rischio sia noto se io ne leggo sui giornali e so di cosa sto parlando il rischio degli incidenti aerei è noto ad esempio so cosa significa se io invece parlo rischio legato sulla presenza di arsenico nell'acqua o del radon non è cresce dai muri negli appartamenti cose di cui non so quasi niente e tendo a sottostimarlo il secondo fattore il valore sociale dell'attività che causa il rischio quando riesco in qualche modo ad associare al rischio un'attività che ha un valore sociale e accetto maggiormente il rischio e come conseguenza gli assegno una impregnanza minore sono meno spaventato la natura catastrofica questo è tipico degli incidenti aerei quando muoiono tante persone contemporaneamente il rischio è percepito come più importante se invece ne muoiono sempre tante ma separatamente no come negli incidenti magari in automobili in cui muoiono tantissime persone ogni anno però non insieme modo sono dei rischi non correlati diciamo e questi vengono percepiti di meno se invece è catastrofico vale di più a parità di numero di morti c'è un fattore legato all'assunzione volontaria del rischio quindi il fatto che uno abbia deciso di svolgere una certa attività rischiosa tende poi a qualche modo a rendere meno saliente il rischio associato all'attività la sensazione di poter controllare il rischio anche molto importante controllare il rischio vuol dire tenerlo sotto controllo e poter esercitare qualche attività che ne limita la rilevanza ma questo è tipico degli degli automobilisti chi acquida l'automobile tende a sottostimare il rischio dell'incidente autosterone perché pensa di poterlo controllare anche se mediamente ovviamente non è così l'orrore il dread in inglese l'orrore il fatto che quando avviene l'incidente e c'è la causa di morte avviene in un modo diciamo che fa orrore che spaventa molto che lascia un segno no emotivamente molto forte l'equità l'equità vuol dire se colpisce prevalentemente persone disagiate o di qualche categoria rispetto ad altre il coinvolgimento in prima persona cioè se è qualcosa di cui io posso essere vittima o se sono vittime altri che in genere se sono io la vittima sembra che ci sia una sopravvalutazione del rischio l'origine naturale o artificiale del rischio anche questo è stato studiato soprattutto dagli economisti sembra che ci sia questa diciamo distorsione per cui se un rischio è naturale viene sottostimato se invece è legato attività umana chiamiamola artificiale non è madre natura che lo provoca ma è un'attività industriale allora viene percepito come più rilevante l'individuazione questo è un fattore molto importante cioè se le vittime hanno un nome un cognome un'immagine o se sono solo dei numeri questo cambia enormemente la percezione del rischio qui c'è una famosa frase che attribuita a stalin ma in realtà è apocrifa non era non era sua diceva se muore un soldato con nome cognome è una tragedia no se invece muoiono mille soldati senza nome cognome è come una statistica non conta niente no e quindi anche qui poter associare un volto o un nome alla vittime rende più saliente chiaramente il pericolo e infine l'incertezza legata al fatto se sappiamo o meno qual è la probabilità con cui si può verificare oppure c'è assoluta divergenza nell'opinione di degli esperti qualcuno mi dice rischio alto alcun rischio basso questo crea incertezza e incide sulla percezione del rischio ok quindi questi sono fattori individuati essenzialmente da psicologi sociali cioè le persone che lavorano sulla percezione del rischio sono degli psicologi io sono invece un economista e a me interessa la risposta la risposta al quesito no di pornei cioè una volta che noi sappiamo che tutti questi fattori incidono sulla percezione del rischio non possiamo farci niente non l'orrore l'equità eccetera eccetera sappiamo che incideranno sulla percezione del rischio che decisioni prenderò cioè come dovrò in qualche modo articolare la mia politica pubblica dovrò in qualche modo tenerne conto sì o no spero che a questo punto voi abbiate già una vostra idea cioè se ne terreste conto sì o no mettetevi voi nei panni del povero ufficiale sanitario allora qui ci sono qui la slide è finita no ci sono essenzialmente tre posizioni più una la una è quella degli ottimisti gli ottimisti sono coloro che pensano che queste distorsioni tutte queste distorsioni questa fallaccia nella percezione sia superabile fra questi c'è un economico scusate uno psicologo famoso chiamati gerenz e tedesco e pensa che sia una questione di educazione alla a rischio quello che si chiama anche tecnicamente numerasi cioè la capacità di gestire dati quantitativi e secondo queste diciamo questi ottimisti il problema di pornei è un problema superabile tramite una adeguata istruzione che parte dall'elementare in cui si segna i bambini a usare il calcolo della probabilità gli si fa si fa lavorare con degli esempi e gli si fa lavorare con le frequenze perché uno dei temi di giga renzer è questo che se io parlo di una probabilità in astratto di un evento unico è un numero che mi dice poco no se invece ti dico x persone no vengono coinvolte essendo un numero naturale riesco ad afferrarlo meglio mi verrebbe da aggiungere che siccome il calcolo lo sappiamo fare da 2000 e passa anni mentre probabilità solo 300 anni no quindi il calcolo è più entrato nella nostro sistema culturale per esempio che fa di grenzer è carino valore ve lo ripeto pensate al caso in cui no si usa il test il dna no il dna è molto preciso ma non è perfetto ma pensate a caso di bossetti no che è stato incriminato qualche anno fa caso non era il lombardia da qualche parte non ricordo dove dice pensate questo esempio se vi dicono questa persona ha un dna compatibile con quello dell'assassino e voi vi chiedete ma qual è la probabilità che ci sia un errore che sia un puro caso che sia identico a quello dell'assassino qual è la probabilità che sia un puro caso e uno dice è uno su centomila a questo punto voi direte beh impossibile che sia un caso no sareste pronti magari a condannare la persona uno su centomila vuol dire impossibile quindi lui è l'assassino o lei è l'assassino però se ve lo riformulo come frequenza magari giungete a una soluzione diversa e se vi dicessi no il numero di persone che possono avere un dna uguale a quello dell'assassino ma per puro caso in una area come quella di milano che comprende più o meno 8 milioni di persone è 80 cioè ci sono 80 persone nell'area di milano che per puro caso hanno un dna uguale a quello dell'assassino a questo punto rivedreste probabilmente la vostra decisione e se vi capita di fronte una persona che ha quel dna direste ma potrebbe essere uno delle 80 cioè non è così impossibile no che uno sia abbia un dna così e non sia l'assassino quindi quello che dice di grenzer e quelli che sono così gli ottimisti è che in realtà ci possono essere delle strategie comunicative nessun modo in cui viene presentata l'informazione per cui le persone riescono in qualche modo a superare questa fallaccia nella percezione però questi non li considerano questi sono gli ottimisti sono gli ottimisti e diciamo la verità forse nel lunghissimo periodo ci arriviamo al momento è accertato che anche con le migliori diciamo a buona intenzione con le migliori tecniche di comunicazione lo scarto fra percezione il rischio oggettivo rimane forte no quindi i grenzer e i suoi simili tenendo a parte ci sarebbe bello non sarebbe bello allora rimangono invece tre posizioni diciamo che vi presento in ordine la prima è la posizione quindi io parlo adesso come reagiscono gli economisti no o quelli che in qualche modo fanno delle consulenze devono consigliare il principe il politico su quello che può sul tipo di investimento che può fare no la posizione tradizionale è quella più diffusa diciamo fra gli economisti soprattutto quelle di una certa età tradizionali anche forse più liberisti chiamiamoli così e tra cui Kipri Scusi che è un economista famoso diciamo il capostipite di questa corrente di pensiero è che laddove le persone non possono essere educate a fare delle scelte corrette quindi a prendere una piena contezza del livello oggettivo del rischio bisogna in qualche modo metterle sotto una campana di vetro cioè bisogna impedirle a loro di fare delle scelte che siano contrarie ai loro interessi e come si fa semplicemente quello che avviene di fatto in molti settori della diciamo della dell'amministrazione e soprattutto pensate al caso di farma di prodotti farmaceutici no tipicamente si pensa che la persona normale non sia in grado di valutare no la correttezza o l'adeguatezza dei dei medicinali e quindi gli si toglie la libertà di scelta e soprattutto per i farmaci quelli regolamentati gli si dice tu puoi non decidi tu decide il tuo medico deve avere una prescrizione solo il medico d'accordo col farmacista può prendere le decisioni relative al medicinale che dovrai usare tu quindi questa è una forma di paternalismo molto diffusa stati uniti anche dove c'è una grandissima diciamo attenzione per la scienza non gli scienziati sono tenuti grandi considerazioni c'è un sistema amministrativo di diritto amministrativo in cui molte decisioni di politica pubblica sono delegate a degli enti indipendenti sono delle agenzie indipendenti piene di scienziati diciamo come l'agenzia di protezione ambientale dove gli scienziati usano l'analisi costi benefici e usano quindi dei dati più aggiornati possibili più ricchi possibili con del metodo scientifico arrivano a certe determinazioni e queste diventano di fatto la politica che viene applicata quindi c'è uno diciamo c'è una il decisore decisore è isolato dalla pressione del politico politico ovviamente il politico tradizionale con la p quello che mira al consenso ovviamente vi segue più la percezione no che il rischio oggettivo allora per evitare che il politico che in qualche modo la secondaria le paure o la percezione fallace delle persone eserce di pressione bisogna isolare bisogna isolare di fatto queste agenzie isolare farle gestire da tecnici un pochino come viene con la comunità europea dove ci sono queste istituzioni ipertecniche la banca centrale europea e tante altre istituzioni proprio il farm che così via qui ci sono gli scienziati e in qualche modo sono isolati dalla pressione della politica qui si crea un problema diciamo classico della politica a questo punto nel rapporto fra queste agenzie indipendente e politica tradizionale il parlamento è spesso conflittuale no è difficile però diciamo la soluzione è abbastanza chiara lasciare decisioni agli scienziati agli scienziati che si in qualche modo trovano la propria voce in queste agenzie con questi istituti fortemente tecnocratici questa posizione tradizionale quella che piacerebbe agli economisti in generale poi la sua la posizione numero due che qui ho chiamato spinta gentile e nudging è qualcosa di più recente è stata sviluppata negli ultimi vent'anni il suo diciamo sostenitore più famoso è questo economista del diritto si chiama cas sansti estremamente influente è stato coautore di un premio nobel quindi estremamente noto e si chiama paternalismo liberale mentre quello di prima era paternali paternalismo questo è paternalismo liberale perché diciamo mentre nel paternalismo all'individuo viene tolta la libertà di scelta c'è qualcun altro che sceglie al posto suo nel paternalismo liberale si permette comunque si vuole comunque dare una sfera di libertà e di scelta di possibilità di scelta all'individuo ma lo si guida perché alla luce di tutti gli studi di cui vi ho parlato si è consapevoli che l'individuo soffre di guidato una razionalità debole limitata a delle informazioni parziali si fa guidare dalla da queste percezioni fallaci per cui bisogna aiutare l'individuo a superare i propri limiti no e quindi quello che diciamo questa corrente di pensiero che poi si è anche qualche modo articolata in proposte normative di cui magari vi parlo dopo è quella di fare in modo che si dia libertà di scelta le persone però gli si aiuti a superare diciamo la debolezza della propria volontà no e come si può fare no come si può fare è ad esempio un esempio classico e sono le regole di default nel caso della donazione degli organi ad esempio no se tutti fossimo perfettamente razionali informati ci divideremo in quelli che vogliono donare gli organi e quelli che non vogliono donare gli organi in realtà c'è un grandissimo numero di persone che non sa quello che vuole è disinteressata non ha neanche interesse raccogliere informazioni e questi possono essere guidati dolcemente da una parte e dall'altra ad esempio dicendo come era stato fatto nel 99 in italia guarda la donazione è automatica salvo esplicita no esplicita espressione di volontà in senso contrario no in questo modo guido la persona in una direzione spero auspicabilmente confacente l'interesse pubblico ma lascio comunque la libertà alla persona eventualmente no di negare il proprio consenso allora con questi trucchi no trucchi chiamiamoli trucchi con questi piccoli accorgimenti si aiutano le persone a prendere delle scelte che siano il più possibile congruenti con l'interesse stesso della persona altro esempio sono i mi fit cioè le normative sugli investimenti che uno può fare tramite la prossima propria banca un intermediario finanziario no uno può dire investi fai quello che ti pare invece qui con questa forma di paternalismo liberale gente sì tu puoi investire però stai attento no stai attento prima ti facciamo compilare delle schede no prima ti mettiamo in guardia no chiediamo se tu hai in qualche modo padronanza creatoria finanziaria di base e poi partono le bandierine no dice però attento tu questi tipi di investimenti non potresti farlo se proprio vuoi lo puoi fare e quindi firmi 27 volte sul modulo e se proprio vuoi fare gli investimenti lo fai tu rischio pericolo però ti ho guidato no ti ho aiutato ti ho aiutato perlomeno a prendere consapevolezza del fatto che non hai le conoscenze di base per fare questo tipo di investimenti no questa è la teoria numero due stiamo scendendo no e nella posizione tradizionale sarebbe tu non puoi investire investo io per te se proprio devi o meglio ancora non investire per niente no la posizione numero 3 quella che io chiamo ci sono domande per ora c'è chiaro alla fine alla fine le faremo avete già magari la vostra idea no quale vi sembra più a uno è essenzialmente una visione legata ai propri valori della vita la terza posizione scendendo in ordine di gradazione è quella che mi ha chiamiamola contestualista o multiculturale è legata ai nomi di paul slovice george lovenstein e altre altri che hanno una formazione meno economisti effettivamente sono più psicologi antropologi e questi ritengono che in realtà il rischio oggettivo non esista il rischio è sempre soggettivo perché il rischio è legato alla minaccia alla mia esistenza no la minaccia la mia esistenza è qualcosa che ovviamente io riesco a capire e porre in prospettiva soltanto nell'ambito di un sistema di valori e ovviamente questo è anche mediato dai sentimenti e dalle emozioni no pensate adesso una cosa che colpisce molto me quando vedete una vipera no c'è una reazione immediata no perché c'è una percezione di pericolo e allora quello che pensano loro essenzialmente che questa percezione del pericolo non è naturale è una costruzione sociale no perché i tuoi genitori ti insegnano a riconoscere in quella forma di animale un pericolo e questo si applica in realtà a tutti i rischi questi rischi sono di fatto delle costruzioni sociali cioè sono delle diciamo delle costruzioni in cui si viene ad assegnare un valore negativo di pericolo perché in qualche modo si collocano dentro una visione del mondo no magari morire in guerra per una per chi fa la guerra santa non è un pericolo mentre morire investito in per la strada è visto come un grande pericolo per chi invece non vorrebbe non vorrebbe fare quel tipo di morte no e quindi quello che mettono in luce questi autori è che comunque non esistono esistendo rischio oggettivo bisogna fare riferimento a dei modelli a delle ipotesi ad una interpretazione no del dei dati quelli che verrebbero dalla statistica e questa interpretazione è qualcosa che già incorpora delle scelte di valore non esiste una scienza oggettiva del rischio per loro tutte le rappresentanti dice loro dicono chi fa la rappresentazione chi descrive il rischio già lo controlla già ti propone una soluzione no e quindi bisogna fare in modo essenzialmente che ci sia fiducia tra chi diciamo è potenziale vittima del rischio chi riceve la comunicazione scientifica e chi offre la comunicazione scientifica e questa fiducia non è data solo dal fatto che ho un dottorato in fisica o qualcosa altro no deve essere una fiducia in cui si definiscono bene le regole del gioco si capisce a nome di chi parli tu e perché mi dici certe cose e quali sono i valori che promuovi tu se sono se sono allineati ai miei e cose del genere no e questo a loro volta su questi sono scienziati non sono come dire opinionisti no scienziati e quindi argomentano fanno vedere come questo tipo di interpretazione in realtà spiegherebbe molta della diffidenza di alcune persone nei confronti delle così delle comunicazioni relative al rischio e anche un esperimento interessante un dato interessante è che quando ci sono dei rischi relativi a fattori un po più controversi no come il cambiamento climatico controllo delle armi gli stati uniti sono molto diciamo un po politicizzati lì non non è la numerasi che conta cioè il fatto se le persone hanno una formazione delle capacità analitiche a trattare quei dati o meno anzi proprio contrario le persone che sono hanno maggiore skills no conoscenze capire con scusate competenze numeriche sono quelle più polarizzate cioè sono quelle che interpretano in modo più polarizzato le informazioni a seconda del proprio orientamento politico e questo vale anche per gli scienziati dice che gli scienziati sono tutti d'accordo e ci danno lo stesso diciamo rappresentazione oggettiva del rischio no gli scienziati a loro volta sono polarizzati e su questi temi si dividono fra quelli diciamo di destro di sinistra liberali progressisti pro business ecologisti e loro dicono non c'è niente da fare no è la rappresentazione del mondo come dire il rischio è incorporato in una rappresentazione del mondo che fa propri i valori la visione del mondo della persona e quindi qual è la soluzione quindi se uno arriva a concepire il rischio in questo modo diciamo la loro proposta è quella di promuovere una democrazia deliberativa cioè per loro la procedura con cui si arriva a prendere certe decisioni è importante perché deve coinvolgere non i tecnocrati non deve essere una decisione presa dai tecnocrati che viene calata dall'alto ma deve in qualche modo essere sviluppata essere articolarsi dentro chiamiamo un gioco di regole condivise in cui si crea fiducia cioè si deve creare fiducia e condivisione e quindi diciamo è proprio lato opposto rispetto al paternalismo paternalismo ci sono i tecnocrati che decidono a nome di altri nella ultima versione come dire più liberale dice promuove una varietà di posizioni diverse dice queste posizioni hanno valore cioè in una democrazia liberale noi vogliamo promuovere la pluralità dei punti di vista e quindi vuol dire anche pluralità dei punti di vista sulla rilevanza del pericolo e quindi non posso mettere non posso semplicemente imporre più scienza per sperare di avere un certo risultato quindi queste sono le tre posizioni e qui io mi dire mi fermo e poi mi chiedete ma io da che parte sto no se è rilevante se ha una qualche rilevanza questa domanda per me è chiaramente per me la risposta come dire dipende dal contesto no per dipende dal contesto ci sono alcune situazioni alcuni rischi che possono che sono così complesse effettivamente per cui è necessaria una qualche forma di paternalismo no i rischi più complessi io penso ad esempio alla scelta sul nucleare secondo me coinvolge come dire dei fattori così complessi che è chiaro che se la popolazione fosse potesse essere interpellata sarebbe meglio ma alla fine la scelta dovrebbe essere lasciata probabilmente ai tecnici per quanto riguarda le scelte finanziarie sono sulla posizione numero due no apprezzo come dire la normativa europea che costringe le persone a fare i conti con la propria ignoranza di fatto a prendere avere contezza no prima di fare gli investimenti devi chiaramente rispondere al questionario della banca e renderti conto che magari tante cose non le sai mentre per i rischi più comuni anche più semplici e più diffusi alla fine credo che la posizione così della democrazia deliberativa possa avere un senso anche se magari non siamo d'accordo no su posizioni di persone che hanno opinioni diverse dalle nostre ma bisogna come dire fare i conti con il fatto che le persone vivono hanno credono a un sistema di valori differente e questo determina la propria percezione del mondo e quindi anche la rilevanza di quello che sono i rischi a cui sono soggetti quindi questa è la piccola carrellata che vi ho proposto e io ho detto che pensavo e questo punto sono curioso di pensare invece di sapere invece cosa ne pensate voi